è un discorso che però qui dobbiamo solo continuare a mostrare consistenza essere presenti perché non abbiamo l'interruttore non siamo capaci di prepararci sì siamo maestri in quello ma ormai anche le altre squadre sono diventate capaci di fare 33 gol il campionato russo fra Krasnodar e Spartak Voska per Mopsisiano non certo l'ultimo arrivato Alessandro Antinelli è sconsolato Cesar Iprandelli da tua parte si sta ancora